Ottavi di Coppa Italia questo pomeriggio alle 18.30 per il Teramo in casa della Viterbese con l'intento di tenere alta la concentrazione e magari anche di centrare la qualificazione contro la squadra del grande ex Diego Cenciarelli. Senza Altobelli, Armeno, Giorgi, Mantini e il lungo degente Speranza ci sarà un'opportunità per il giovane Celentano sulla fascia destra Zecche e Barbuti, coppia d'attacco, Caidi al centro della difesa perché sarà squalificato domenica e Spinozzi da interno con Proietti che ritroverà il campo dopo lo stop del giudice sportivo. Insomma abbiamo esigenza di fare i conti con alcuni calciatori che non stanno al meglio della condizione quindi dobbiamo valutare bene questa sera dopo i dati e quelle che sono un po' la situazione di tutti in modo tale da fare le scelte più serene possibili per poter fare una buona partita domani e per fare una buona partita domenica. Di certo la Coppa Italia non è l'obiettivo primario del diavolo anche se arrivare lontano porta in dote l'accesso ai playoff. Chi vince stasera se la vedrà poi ai quarti col Pisa e per questo Maurizio vuole vedere una squadra, la sua, che non perda l'attenzione e la cura viste a Ravenna. Non dobbiamo andare a fare una gita ma vale come qualsiasi allenamento. Dobbiamo rimanere sempre concentrati sul nostro obiettivo. Ormai sappiamo che restano dieci partite di campionato più la Coppa Italia e sappiamo che fare bene dipende da noi e quindi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo e la Coppa Italia deve essere vista come un progresso nella crescita della squadra e proprio dell'autostima e dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.